Buonasera, buonasera brava gente, il primo nome che vedo è Felice, felice, un saluto allora, eccoci qua, Annalisa, Elisabeth da Londra, saluto a tutti gli amici che abbiamo a Londra, grazie, ecco Angela, ci siete tutte e tutti, Mirella, Francesca, e allora iniziamo, buonasera, buonasera brava gente, Ersi, Daniela, Daniele, bene allora, vogliamo anche oggi in questa Domenica del Signore prepararci alla nuova settimana che affrontiamo, la affrontiamo bene questa nuova settimana perché tutto dipende dallo spirito con cui noi ci accingiamo a vivere una nuova settimana, i figli a scuola, il lavoro, ottenere i nipotini, portare i bimbi all'asilo, ai ragazzi che penso a tanti che non trovano lavoro e stasera vorrei incoraggiarli a non scoraggiarsi, cercate, bussate, vedrete che troverete, lo vorrei dire ai tanti giovani che mi scrivono, con cui parlo e che so che lontano dai genitori si affacciano su questa finestra per ascoltare una buona parola ed è verissimo quello che mi ha scritto Robi, che mi scrive da un piccolo paese della Lombardia, che poi proprio piccolo non è, da Como e mi ha detto una cosa molto bella, faccio fatica a trovare lavoro ma non demordo, ecco così bisogna essere, non bisogna demordere e vedrete come poi le opportunità ci sono, solo chi non vuole lavorare, a volte penso che proprio non riesce, invece chi si impegna a qualcosa, qualcosa trova e quindi vi vorrei davvero abbracciare tutti cari ragazzi, care ragazze per dirvi mettetecela tutta, ok? Poi è evidente che anche il governo deve fare la sua parte per creare posti di lavoro, io so di tanti giovani e lo dico con fierezza, lo dico con fierezza, che pur con diverse titoli, con diverse lauree hanno ripreso le vecchie attività dei nonni e cioè hanno messo su un gregge e sono felici, è una cosa bellissima e vivono non nello sfarzo, nemmeno nella povertà assoluta ma con dignità ed è la cosa più bella della vita, vivere con dignità. Bene, ascoltiamo in questo giorno che celebriamo la festa di San Carlo Borromeo, un grande santo della Chiesa, un pastore buono e un dono grande per la Chiesa di Milano, quindi salutiamo anche tutti i milanesi. Ma ascoltiamo il Vangelo, pochi versetti ma che hanno un messaggio molto interessante per questi tempi così ricchi purtroppo di egoismo o di interessi. Dal Vangelo secondo Luca, in quel tempo Gesù disse al capo dei farisei che l'aveva invitato, quando offre un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto invita poveri, storpi, zoppi, ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti, riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti. Sorge spontanea una domanda, Gesù davvero non vuole che invitiamo i nostri amici, i nostri fratelli o parenti o le persone che ci hanno fatto del bene o i vicini. Il messaggio non è questo, non è non invitare questi, ma è un messaggio di una dirompenza straordinaria e cioè fino a che punto sei capace di azioni, di gesti disinteressati. Cioè fare una cosa perché tu credi in quella cosa e sai di non riceverne il contraccambio. Guardate, è fortissimo, Gesù ci invita praticamente a capire di che stoffa siamo, di che stoffa siamo. E cioè se abbiamo la forza, il motivo dentro di noi di fare le cose non per interesse, ma in maniera disinteressata. Fare le cose in maniera disinteressata, senza volere il contraccambio. Vedete, nelle categorie che cita Gesù, cita prima, dove sta? Eccolo qui no? Cita prima gli amici e gli amici poi si sa, contraccambiano, ti rinvitano. Se tu invidi degli amici, dici oh ma sono da cena a casa tua, vieni da me, sai che riceverai il contraccambio. Se inviti i tuoi fratelli, i fratelli di sangue, no? Normali, ti contraccambiano perché tu vai da loro, loro vengono da te. E così anche i tuoi parenti, no? I nonni o le nonne o il suocero o la suocera o un cugino o una cugina, no? Sì, sì, c'è quel contraccambio normale, naturale, bello, è bello questo, non è brutto. Oppure un vicino di casa, se tu l'invito e poi anche lui, no? Dice ma dai vieni, no? Oppure ti porto un pensiero perché tu l'hai invitato, eccetera. E questo è normale ed è bello. Gesù ci vuol far fare un passo successivo, un passo importante, cioè sei capace di un amore disinteressato, di fare le cose perché tu non otterrai un contraccambio. A volte si dice, eh ma quello poi non ti dà niente in cambio, no? Quello, cioè è un ragionamento segnato dall'egoismo. Invece Gesù vuole un ragionamento segnato dalla bellezza. Ci sono i ragionamenti segnati dall'egoismo, no? Non so fare perché poi da lì puoi ricevere un contraccambio, no? Eccetera, eccetera. Ma poi ci sono anche le cose segnate dalla purezza. E la purezza è disinteressata, brava gente. La purezza è disinteressata. Io dico sempre che invitare dei poveri a casa è una delle forme più alte di benedizione alla propria famiglia. Se proprio un interesse ci deve essere, pensiamolo, come un po' Gesù dice, riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. È straordinario. Riceverai la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Ecco, io credo che questo davvero ci può aiutare. Senza spaventarci, che a volte c'è l'interesse personale nelle cose, però possiamo far emergere anche questa bella purezza. che ce l'abbiamo tutti, brava gente. Ce l'abbiamo tutti, questa purezza. Avere il coraggio di portarla fuori, di farla emergere. Spraying, dicono gli inglesi, no? Di farla sbocciare. Bene, allora, mi fermo qui e Gesù con noi è disinteressato. Vuole solo la nostra salvezza e nient'altro. Bene, allora, andiamo avanti. Forti, forti, forti. Eh, forti, forti, forti. Domani mattina mi alzerò prestissimo alle quattro, alle quattro. Domani leva taccia. Partiremo per Roma per essere lì già alle sette. Ci attendono, insomma, dei giorni di grande lavoro. Sono venuto a scala per onorare la mamma, i nonni che stanno in paradiso e anche oggi per celebrare un venticinquesimo di matrimonio. faccio gli auguri ad Alfonso e Loredana, i figli, eh? E avanti. È la Santa Maria pure, eh? A Santa Maria, eh? Maria. Eh, poi abbiamo un altro saluto. Tutta la famiglia festeggia la nascita del piccolo Leonardo. Auguri Leonardo, eh? E ogni bene, ogni benedizione. Dalla mamma, eh? Dai nonni e dal papà Adriano, eh? Ok, mi raccomando. Ogni bene da Bari. Bari puoi ricordare la dieta della nascita del piccolo Leonardo? Certo, certo, certo. E ogni bene. Poi, allora, due cose importantissime. Segnatevi questi due indirizzi e segnatevi questa data. L'8 dicembre tutti a Roma. L'8 dicembre tutti a Roma la sera alle 18 e 30 circa, più o meno. Eh, se arrivate un po' prima assisteremo alla benedizione del presepio in Basilica, eh, nella Basilica di San Pietro e poi, eh, e poi, e poi celebreremo la messa insieme e, eh, presenterò brevemente anche il nuovo libro, Vivere il Giubileo, Vivere il Giubileo, eh? Un itinerario spirituale. Enzo Fortunato, edizioni San Paolo. Abbiamo scoperto che c'è un altro libro, Vivere il Giubileo, quindi non vi confondete, eh? Vivere il Giubileo, edizioni San Paolo, eh, Enzo Fortunato, finalmente è uscito, lo potete chiedere ad Alessandro, che tutti conoscete, e poi metterò anche io qui la pagina, e ci accompagnerà per il Giubileo questo testo. Due cose per la nuova rivista Piazza San Pietro, invece, lettere, chiocciola, piazzasampietro.va, lettere, chiocciola, piazzasampietro.va, o anche abbonamenti, chiocciola, piazzasampietro.va, questo è tutto ciò che riguarda la rivista e le lettere che voi volete, io posso pubblicare sulla rivista. Ponetemi le lettere che il cuore vi detta, brevi, eh, brevi, non lunghe, che le pubblichiamo, e poi vi risponderò, quasi, a quasi tutte il sottoscritto. E poi ci sarà qualche sorpresa, basta, non mi fate dire più niente. E invece la mia email rimane sempre valida, enzochiocciolabuongiornobravagente.it, enzochiocciolabuongiornobravagente.it. Buona serata, per chi si affaccia domani buona giornata, e per tutti noi invochiamo ogni bene e ogni benedizione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona serata, brava gente. Per chi si affaccia domani, buona giornata, buon inizio settimana. Fatti bravi!